Intanto diamo il benvenuto, lo ringraziamo perché abbiamo ritardato di molti minuti la sua presenza, l'attore e regista Simone Riccioni, in collegamento con noi. Ciao Simone, buongiorno, grazie per la tua presenza. Grazie per l'invito, grazie mille davvero. Allora, nelle sale il 7 marzo, la tua opera prima, La delicata storia di una bimba di 10 anni, il film si intitola Neve ed è un film che invita il pubblico a riflettere su un tema di grandissima attualità. Sì, è un film che tocca la tematica del bullismo, del cyberbullismo, ma anche del rapporto genitore-figli, che è veramente importante per quanto mi riguarda. Nasce da un mio vissuto, perché io sono nato in Africa da genitori missionari e quando sono tornato in Italia ad età di 7 anni ho ricevuto bullismo gratuito, nel senso che mi bullizzavano per cose assurde, anche semplicemente il colore della mia pelle, quando diciamo che in Italia io sono bianco come tutti, mentre in Africa, che ero realmente quello diverso, nessuno mi diceva nulla. Quindi mi si è creata questa grandissima ferita che durante il Covid è tornata a galla e da lì ho iniziato a scrivere insieme a degli sceneggiatori questa storia. Una storia che per quanto mi riguarda tocca veramente il cuore della gente e ha questa frase, a mio avviso, stupenda, che è non siamo responsabili solo per ciò che facciamo, ma anche per ciò che non facciamo. Ecco Simone, la cosa bella di questo film, che appunto sarà nelle sale il 7 marzo, ma tu inizierai davvero un tour nelle scuole per portare il tuo film, per portare la tua testimonianza? Sì, io sto già toccando, infatti adesso stavo per partire, come avevo raccontato, che andiamo nelle scuole ogni mattina e ho già incontrato 6.000 studenti che stanno rispondendo in maniera incredibile, perché il film sta piacendo tantissimo, perché tocca questa tematica, ma non in maniera come altri film, ma è veramente una storia semplice, personale, che può toccare immediatamente il cuore del ragazzo o dei familiari, dei genitori, perché è una storia per tutti. Ho ad oggi oltre 120 scuole in giro per l'Italia che andrò a salutare la mattina, a avere un dibattito con loro, perché secondo me i ragazzi sono il nostro futuro, quindi riuscire ad arrivare a loro è per me la cosa più importante. Senti, prima di lasciarti, poi tra qualche istante vedremo anche il trailer del tuo film, la storia di una ragazzina di 10 anni che si chiama Neve, raccontaci qualcos'altro di più senza spoilerare troppo, come si dice in gergo. Certo, Neve è una bambina di 10 anni che ha un rapporto meraviglioso con questa mamma, Marta, e a un certo punto la mamma inizierà a capire che la bambina viene bullizzata perché la mamma lavora in un trottificio, il trottificio è praticamente un luogo dove si lavora la trota, quindi il pesce, e quindi inizieranno a bullizzarla, a canzonarla, fino a quando questa bambina decide di iniziare a non parlare, quindi a scostarsi da tutti quanti, e la mamma per darle una mano, un sostegno, decide di portarla da questo attore, presunto attore, che sarei in questo caso io, Leonardo, che è un attore caduto in disgrazia che adesso lavora in una compagnia di teatro sua piccolina e lavora come docente di recitazione, ma delle volte fa anche il presentatore, quindi cerca di sbarcare il lunario. E da lì nascerà un'amicizia incredibile dove Neve avrà un percorso meraviglioso, ma anche questo Leonardo riuscirà a capire il senso della vita. E allora, continueremo a seguirti, caro Simone, anche sui social, sperando appunto di poter ammirare il tuo film presto nelle sale. Ti lasciamo andare perché è una giornata impegnativa. Grazie di cuore per essere stato con noi, Simone Riccioni, attore e regista di Neve, un film davvero che esplora la fragilità dell'essere umano. Grazie, grazie e buon lavoro. Grazie Simone. Ci vediamo al cinema.